Allozza Rosita, dalle che bella sta pizzeria! Vedi che stasera ti faccio fare una pizza speciale, mi raccomando, non farò solo dodo, mangiatela tutta e non mi farò fare male con base. Attenzione, la pizzeria Sal Malik è ravuta! Grazie a tutti! Avertiamo i signori clienti che abbiamo i fuggi freschi dell'Africa. Avertiamo i signori clienti che abbiamo i fuggi freschi dell'Africa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!